L'appuntamento Comunicare il trasporto pubblico locale, organizzato da Astra, la principale associazione datoriale del mondo dei trasporti nel panorama italiano, con il supporto di TUA, Trasporto Unico Abruzzese, è stato un momento di confronto sulle strategie di comunicazione e sulle tecniche utilizzate dalle aziende di trasporto pubblico italiane in relazione alla gestione dei contenuti e degli strumenti. Per raccontarsi, informare e assistere la propria clientela, il presidente di TUA, Gabriele De Angelis. L'importanza appunto della comunicazione nel mondo del trasporto locale? Sempre più importante avere un settore che si occupa in maniera più professionale della comunicazione per le aziende di trasporto in generale, quindi oggi lanciamo questo tema, quindi approfondimento sul valore aggiunto che può portare una divisione della comunicazione che sappia comunicare sia all'interno che all'esterno e tanto è vero che abbiamo raccolto più di 20 adesioni delle aziende più importanti di trasporto pubblico nazionale e sotto l'egida dell'Astra, siamo qui oggi a parlare di questo. Nelle aziende che si trasformano velocemente, come la nostra in particolare, abbiamo necessità di comunicare questi cambiamenti nella maniera più corretta e precisa possibile, nell'interesse dell'utenza, anche per avere dei ritorni dall'utenza stessa verso l'azienda, quindi creare un canale a doppia corsia che possa riportare indietro a noi anche i feedback necessari per poter modificare e aggiustare le nostre azioni sempre nell'ottica del miglioramento del servizio. Diciamo così, in sintesi è una comunicazione sempre più mirata nel contempo strategica? Sì, anche integrata perché oltre ai canali, ai vettori comunicazionali moderni, quindi social network, noi abbiamo pensato anche di realizzare il nostro organ house che sarà presentato oggi, è un bimestrale e questo ha lo scopo di rendere ancora più confidenziale la comunicazione nei confronti dell'utenza per raccontare anche un po' le nostre storie interne e aziendali.